Ma che c'è da? Madushka, Russia! Quale Russia? E' Ucraina! Ucraina è Russia! Ucraina è Ucraina! C'è Ciclo-Slovakia, Praga! C'è Ciclo-Slovakia, Bratislava! Ne sono successe di cose negli ultimi anni. Per questo il Corriere della Sera vi regala il nuovissimo Atlante d'Europa e d'Italia e l'Enciclopedia Geografica Mondiale di Agostini ogni lunedì, martedì e mercoledì dal 2 gennaio. Grazie a tutti!